Lei questa mattina nel corso della conferenza stampa ha contestato la decisione della FIPE di sollevarla dall'incarico di Presidente. Scusi, la decisione della Concommercio di sollevarla? Per quale motivo? Perché secondo me il commissariamento che hanno fatto della FIPE è un atto illegittimo. In primis nel metodo è sbagliato, nel senso che nello statuto della Concommercio una delle prime cose che viene detto è che la Concommercio è un'associazione che si ispira a principi democratici. Nessuno del direttivo della FIPE è stato sentito in merito a questa decisione. Indipendentemente da quello che prevede lo statuto era normale convocare un'assemblea del direttivo e rimettere eventualmente la decisione della maggioranza dei membri se il mio operato doveva essere in qualche modo censurabile. Al di là di questo comunque le motivazioni a portare da Concommercio sono veramente risibili. Si parla della mia richiesta al comune di prorogare il bando della Notte Bianca e mi sembra che questo è avvenuto e io ho sollecitato più volte la Concommercio a fare una richiesta ufficiale al comune che non ha fatto. Poi invece successivamente in base alla mia richiesta il bando è stato prorogato di oltre 20 giorni. Poi si parla della mia attività di battaglia personale sugli autovelox. Sono loro stessi a definirla personale. Io non ho mai fatto riferimento alla FIPE Concommercio in questa iniziativa, l'ho fatta come semplice cittadino, commerciante, multato quindi non può essere quello un argomento per cui possa essere commissariato al di là poi di essere d'accordo o meno. E comunque in quella sede per questo aspetto io ho fatto una richiesta formale non solo alla Concommercio ma a tutte le associazioni di categoria di sapere il loro parere perché da amministratore del gruppo che si è creato su Facebook c'erano tantissimi commercianti e artigiani iscritti che volevano protestare contro questa cosa. Quindi ho chiesto all'associazione di esprimere un loro parere e si sono espresse a favore di questa protesta confesercenti e confartigianato. Mi sembra assurdo che la confesercenti e confartigianato esprimano un parere positivo a difesa dei commercianti e la confommercio invece è stata in assoluto silenzio. È ancora di più assurdo il fatto che possa prendere a pretesto questa mia battaglia per commissariarmi. La Concommercio l'accusa di inattività e di scarsa rappresentanza, giusto? Esattamente. Ora su questo veramente sono cose che fanno ridere perché facendo leggere la raccomandata a Stefano Amici che è il titolare di Pazzaglia che in passato è stato presidente della Fipe, gli è venuto proprio da ridere nel senso che dice tu in sei mesi hai fatto quello che io in dieci anni non sono riuscito a fare, quindi viene da un ex collega questa attestazione, non è che la dico io, tant'è vero che io subito una volta che mi è pervenuta la raccomandata che ho ritirato solo il 27 aprile benché avessi chiesto alla Concommercio di anticiparmela via mail in modo che mi avrebbe permesso di difendermi, io in pochi giorni ho raccolto oltre 30 firme di attestazione del mio operato della quasi totalità del direttivo della Fipe che testimoniano il contrario, che attestano tutta l'attività che io ho fatto, che è andata al di là dell'aspetto sindacale perché io mi sono attivato anche in termini propositivi cercando di creare eventi o comunque cercando di portare avanti iniziative che potessero anche essere un aumento di fatturato, di occasione di sviluppo per la città, quindi quello è assolutamente impossibile addebitarmelo, basta ricordare anche solo l'attività fatta a proposito delle pasticcerie che penso che tutti quanti ricordino. Per quanto riguarda la scarsa rappresentatività ancora meglio, nel senso che io nel momento in cui c'è stata fatta l'Assemblea era un semplice iscritto, l'Assemblea è stata convocata da Fabrizio Ghiani, allora e tuttora dipendente della Concommercio e in quel tempo c'era porcacchia. All'Assemblea erano presenti, adesso non mi ricordo con precisione le persone, ero l'unico candidato sostanzialmente quel giorno e all'umanità fui votato come Presidente, proprio perché erano poche persone presenti e c'erano molte deleghe, chiesi di estendere il direttivo ad altri soggetti importanti rappresentativi perterni, per cui in pochi giorni fece entrare in Concommercio il Caffè del Corso, il Met, andai da Vetturini, da Pazzaglia stesso e tutti i pasticceri coinvolsi nel direttivo Fiber portandolo fino a 21 membri. Queste sono cose attestate con comunicati ufficiali della Concommercio, quindi si contraddicono loro stessi con i loro comunicati. Benissimo, adesso lei cosa intende fare? Lei che fa? Un ricorso contro questa decisione? Esce dall'Associazione? Ne fonda un'altra? Che intende fare? Il ricorso, il commissariamento è illegittimo e fa acqua da tutte le parti, potrei iniziare una battaglia che sicuramente non c'erebbe lunga e dispendiosa anche economicamente perché poi io dovrei utilizzare i miei soldi, loro probabilmente quelli della Concommercio, cioè non avrebbe senso perché anche se io da qui a un anno e mezzo poi riuscissi in qualche modo a dimostrare queste cose e a farmi ammettere come Presidente FIPE, già so che oggi la FIPE non esiste più perché molte persone che fanno parte del direttivo già sono uscite dalla Concommercio o hanno manifestato l'interesse di andarsene. Quindi ne fonda un'altra? Quindi ritengo maturi ormai i tempi perché nasca una nuova associazione di commercianti che sia effettivamente un'associazione che faccia attività sindacale, cioè a difesa degli interessi dei commercianti, perché in questo momento non ritengo che la Concommercio… Ecco, lei è molto critico nei confronti di Concommercio, perché? Che cosa addebita la Concommercio? Perché secondo me, senza dilungarmi su quello che è successo nei tempi di Porcacchia, io tra l'altro sono entrato pochi mesi prima che fosse arrestato, da quando sono in Concommercio la vedo completamente appiattita su quelle che sono le esigenze del Comune, non sulle esigenze dei commercianti. È notorio che l'assessore Benjivenga mi fa una guerra personale del tutto immotivata, non riesco a parlare con questa persona, con gli altri assessori sono riuscito in qualche modo ad avere degli incontri, degli appuntamenti, si sono dimostrati anche disponibili. Non riesco invece dal 29 marzo dell'anno scorso che abbiamo un appuntamento viene sempre rimandato e mai più ha avuto modo di parlare con Benjivenga, per affrontare come Presidente FIBE i problemi della categoria. Addirittura gli ultimi tempi, prima che fosse arrestato, con Porcacchia convocavamo le riunioni e lui diceva proprio guarda Bartoli non c'è e io mi presentavo all'ultimo minuto all'improvviso, questo perché altrimenti io non ero una persona gradita. Ora questo è un comportamento assolutamente non opportuno, non ritengo che sia neanche lecito e questa cosa ha avuto ulteriori sviluppi durante la manifestazione di Cioccolentino che io ho denunciato anche alla magistratura e questa cosa ne ho informato la Confommercio e anziché prendere una posizione in difesa di questa mia operare, di queste mie ingiustizie che subivo, di fatto si sono schierate sempre a favore del Comune con un comportamento istruzionistico mai portandomi a conoscenza di fatti importanti e addirittura adesso quando io ho iniziato la battaglia con gli autovelox, addirittura utilizzandolo come pretesto per commisariarmi. Chiaramente io l'ho fatta la battaglia contro gli autovelox non per andare contro Bencivenga ma in riferimento alla situazione stessa dell'autovelox, poi il fatto che sia lui il responsabile di questa cosa non è che ci posso fare niente io, quindi non era una campagna contro Bencivenga, era una campagna contro il sistema di gestione degli autovelox. Loro, ripeto, anziché come hanno fatto altre associazioni sposare questa battaglia e l'hanno utilizzata come pretesto per commisariarmi. Allora io non capisco qui per quale motivo sono in sintonia Bencivenga con Fommercio, tutti nei confronti miei, qual è il motivo? Mi sembra veramente una cosa abbastanza equivoca questo discorso. Ho capito, un'ultima domanda visto che lei è alla testa di questa associazione che è nata spontaneamente contro l'istituzione degli autovelox, a che punto è la situazione? Come intendete operare? Noi siamo ancora in attesa che il prefetto ci accetti un incontro, perché riteniamo che anche il prefetto debba in qualche modo prendere parte delle decisioni importanti che dovranno essere prese dall'amministrazione. Io oggi stesso ho mandato una mail alla senatrice Fioroni come esponente del Partito Democratico, sottolineando la gravità delle affermazioni del sindaco quando afferma che il 50% dei ricavati delle multe non verranno investiti in sicurezza perché tanto è un obbligo che non rispetta nessuno. Nell'ultimo decreto sulle semplificazioni Monti ha addirittura inasprito questa regola mettendo delle penalità laddove i comuni non investano il 50% degli incassi delle multe in sicurezza avranno la penalità del 90% degli incassi che verranno sottratti e una segnalazione alla Corte dei Conti proprio per irregolarità contante. Quindi da questo punto di vista ormai la situazione è chiara, il Comune deve prendere delle decisioni, sicuramente farà dei correttivi, noi a questo punto chiederemo una norma transattiva nell'attesa che queste cose sicuramente andranno alle lunghe abbiamo predisposto i ricorsi, da ieri sono pronti, il pool di avvocati ha terminato il lavoro di equip per poter predisporre i ricorsi, sono due ricorsi tipo, uno per l'autovelox di Via Alfonsina e uno per l'autovelox di Viale dello Stadio, saranno a disposizione, domani faremo un comunicato stampa su alcuni patronati e uffici a disposizione dei cittadini, i ricorsi saranno completamente gratuiti, dovranno solamente pagare una tassa fissa, avranno delle indicazioni su come fare. Aspettiamo che venga discusso il nostro atto di indirizzo in Consiglio Comunale e speriamo, ripeto, che ci sia da parte del Comune una disponibilità a trovare una soluzione. Io da questo punto di vista vorrei proprio rivolgere un appello al Sindaco, nel senso che sono un po' cose che sono simili, nel senso che anche nei confronti degli adovelox noi abbiamo chiesto incontri con l'assessore competente, anche nell'ultima riunione che abbiamo avuto con il Consiglio Comunale, è l'unico assessore che non si è presentato alla nostra... c'era tutti, c'era il Sindaco e lui non c'era. Ecco, tutti mi dicono che Di Girolma è una brava persona e quando tante persone parlano bene di un'altra persona, evidentemente del vero c'è. Io non lo conosco personalmente, non posso dirlo, ma mi fido della maggioranza delle persone che ho incontrato e ritengo che se il Sindaco di Terni considera una brava persona, non penso che gli faccia piacere che possa essere ricordato come il Sindaco che permetteva a degli assessori di fare il bello e il cattivo tempo, perché quello che ha fatto Ben Givenga nei confronti della FIPE con Fommercio sicuramente non rasenta illecito e l'atteggiamento che sta avendo nei confronti della marea di cittadini oppressi dagli adovelox ugualmente non rientra nello spirito dell'apertura, della trasparenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Quindi io chiedo proprio al Sindaco di Girona che prenda in mano queste situazioni e diciamo in qualche modo ne esca fuori in maniera anche consona alla sua immagine.